e questo consiglio comunale con l'appello. Buonasera, Merusi, presente, Maestri, presente, Protondo, presente, Bronchini, Ioli, presente, Avesi, Carbognani, presente, Carbognani no, Grandi sì, Saccani, Azzolini sì, Barillari sì, Manotti, distante, allora un assente. Grazie, una breve comunicazione riguardo alla mozione presentata, praticamente che era già partito, l'ordine del giorno del consiglio comunale presentata dal Movimento 5 Stelle, c'è dal capogruppo Giuseppe Distante e non siamo riusciti ad inserirla, comunque nel prossimo consiglio comunale che intanto vi dico dovrebbe essere il 25 febbraio e sarà sicuramente al primo punto in modo che la possiamo discutere. Poi abbiamo una presa d'atto, ci dispiace un po' perché il nostro capogruppo ha rassegnato le dimissioni da capogruppo. Nicola ha degli impegni di lavoro che noi dobbiamo assolutamente rispettare perché come sappiamo al giorno d'oggi il lavoro viene prima di ogni altra cosa e quindi non abbiamo neanche potuto fare pressioni o cercare di convincerlo ad esistere, insomma sono dei problemi oggettivi. Noi approfitto a nome mio, della Giunta e di tutto il gruppo per ringraziarlo per il proficuo gruppo lavoro che ha svolto fino ad oggi e siamo certi che comunque continuerà nel suo impegno nel gruppo con costanza e capacità come è dimostrato. E nel contempo vi do la comunicazione del nuovo capogruppo designato del gruppo Solidarietà che è il professor Giovanni Ronchini che fa la prima sera da capogruppo e lo ringraziamo per aver accettato di ricoprire questo incarico che effettivamente insomma è abbastanza oneroso, è un po' più impegnativo rispetto all'impegno dei consiglieri semplici, se vogliamo parlare di gradi. Bene. Quindi comincerei con... Sì, allora facciamo... Il dottor Pastore mi suggerisce di mettere ai voti la presa d'atto della nuova nomina, quindi chi vota a favore è pregato di alzare la mano. E' arrivata anche... Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro sostenuti. Dobbiamo nominare anche gli scrutatori. Giuseppe? Sì? Allora, distante. Simone? E la... Azzolini? Niziana, va bene? Bene. Comunicazione ai verbali della seduta del 21-11-2013. Vi chiedo se qualcuno ha qualcosa da chiedere o chiarire? Certo. Al direttore. Ha guardato se aveva messo le giustificazioni, se ci sono le giustificazioni nei consigli precedenti. Si è dimenticato? Sì, è in approvazione questa sera con l'assenza giustificata. Nella precedente approvavamo... Tante precedenti. Il verbale si approva la seduta successiva. Quindi quando ha fatto quell'obiezione non era ancora in approvazione, ma risulta comunque. Dalle verifiche effettuate le assenze giustificate dei consiglieri sono riportate nel verbale quando comunicate al segretario. In riferimento all'assenza del consigliere comunale Barillari, il verbale del 21 novembre ne riporta la giustificazione ed è in approvazione in questa seduta. Ok. Grazie. Grazie. Punto numero 3. Comunicazione dei verbali della seduta del 27-11-2013. Tutto a posto? Bene. Allora passiamo al punto numero 4. Un atto di giunta, praticamente un atto dovuto. A fine anno, il fondo di riserva viene azzerato e la somma di 3.530 euro che era a disposizione sul fondo viene posta nel capitolo di utenza pubblica illuminazione, che da 140.000 diventa 143.530 euro. Ci sono domande? Ci sono domande? No. Allora. Passiamo al punto numero 5. Un attimo che lo prendo. Convenzione tra i comuni di Collecchio, Fellino, Traversetto e Le Salle Baganze per la gestione del contenzioso tributario. E' un atto, scusate, è un atto che abbiamo già deliberato anche lo scorso anno. Sono già alcuni anni che gestiamo in convenzione il contenzioso tributario e riproponiamo la formula praticamente come era lo scorso anno per gestire in forma associata questi contenziosi per avere un supporto di una persona che si occupa di questo anche se non totalmente e che fa capo al comune di Traversetto e quindi al comune capofila di questa convenzione al fine di gestire in un modo abbastanza omogeneo i contenziosi e supportare gli uffici nei momenti in cui ci sia da fare delle opposizioni. Finché non porremo la funzione dei tributi all'Unione pensiamo di continuare con questa convenzione perché la giudichiamo positiva complessivamente nella sua funzione. Se avete domande magari approfondiamo l'argomento ma è in pratica come l'abbiamo approvata l'anno scorso. Se non ci sono interventi la metto ai voti. Chi vota a favore è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Tra distante, azzolini, barillari. E chi si astiene? Il dottor Manotti. Altra convenzione, punto numero 6 l'esercizio associato al servizio di segreteria comunale. Abbiamo un aggiornamento, una differenza rispetto alla scorsa convenzione. La proposta che facciamo al Consiglio Comunale è di proseguire con la convenzione per avere ancora il dottor Pastore a dirigere le nostre operazioni. Nel frattempo il comune di Tre Casali e di Sissa si sono fusi per cui proponiamo la convenzione con il comune di Sissa Tre Casali. Ci chiedono però di fare uno scambio. Prima il dottor Pastore era tre giorni alla settimana a disposizione del comune di Salla Baganza e due del comune di Tre Casali. Adesso la proposta è di fare l'inverso. Ovviamente con anche i risparmi relativi perché si invertono i costi, le percentuali di costo. Adesso non starai a leggere tutto quel che dice la convenzione perché i discorsi sono gli stessi e è l'unica cosa che cambia. Prego. Distante. Considerando che ci sarà comunque una divisione del 60% per Tre Casali e 40% per Sala ma il totale costa in effetti questo benedetto segretario quanto ci costa a noi? Progressivamente può darsi che lo sappia più lui di me perché sinceramente qua non credo che sia indicato nemmeno il totale. Appunto quindi si può solo cambiare dal bilancio si evince che però in questo momento io non ce l'ho. Tu hai... Anche perché ci sono degli altri costi oltre a quello che è in tasca. Non è indicata la retribuzione perché la convenzione riguarda i due comuni poi il titolare viene indicato viene nominato dal capo convenzione quindi al momento questo è lo strumento per chiamare il segretario io ci sono già perché sono stato chiamato due anni fa quindi adesso si aggiorna anziché non c'è necessità di indicare la retribuzione perché dipende anche dall'anzianità del segretario e dal segretario che in quel momento ricopre ricopre l'incarico. Sì prossimo consiglio però è una cosa strana allora qui c'è il consiglio comunale con tanto di segretario di sindaco di vice sindaco di tutti gli assessori e non sappiamo quanto guadagna il nostro segretario non è una cosa che possiamo decidere comunque non è da decidere è da sapere è impossibile che non lo sappiamo più o meno lo si sa il prossimo consiglio lo sapremo Sì perché c'è tutto il dettaglio ce l'hai? No ma voleva il totale lui Sì pressa poco lo sai All'incirca sì all'incirca 100 te lo scudo dire a memoria ecco poi vanno aggiunte anche le varie i viaggi tutto quello che è no ho capito questo è il lord è il è il role lord poi ci sono tutti i rimborsi se vuole sapere i rimborsi 2000 queste li so sono zero i rimborsi 2013 può controllare no no ma io non sto facendo il censore ci mancherebbe altro però è corretto sapere quello che è lo stipendio e quelli che sono gli oneri accessori legati allo stipendio altrimenti non ci capiamo sì 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 il costo per la società è complessivo non certamente una parte questo mi risulta perché appunto io non presento tabelle di missioni e di spese quindi non ho capito nel 2013 non ho presentato richieste di spese di viaggio di missioni per questo mi risulta no no sul lordo ne prendiamo atto mi sono astenuto dal dire perché non so esattamente adesso il costo complessivo perché ci sono gli oneri riflessi quello che che adesso comunicava l'assessore era la cifra corretta io per questo non ho ok bene allora metto i voti la proposta di convenzione chi vota a favore è pregato di alzare la mano chi vota contro distante chi si astiene Barillari e Lazzolini l'immediata esecutività dell'atto no due astenuti Manotti ha votato a favore due astenuti Lazzolini e Barillari e un contrario distante prego immediata esecutività dell'atto chi vota a favore penso che si ripeta 10 chi vota contro sempre distante e chi si astiene grazie dobbiamo fare dobbiamo fare un passo indietro perché ho dimenticato l'immediata esecutività sulla convenzione sul contenzioso tributario chi vota a favore sulla convenzione per il contenzioso tributario sull'immediata esecutività dell'atto grazie 9 chi si astiene 1 e chi vota contro 3 ecco questo punto chiamo il dottor Leoni per il punto numero 7 sdemagnalizzazione e declassificazione di una porzione della strada vicinale della bovaia grazie sì parliamo di sdemagnalizzazione declassificazione non c'entra il devoto Oli qua della porzione di strada vicinale della bovaia con riclassificazione come strada vicinale di nuovo tratto di strada di proprietà signora Davoli Teresa lo spostamento determina la soppressione della classificazione di strada vicinale alla bovaia di un tronco stradale di circa 195 metri di lunghezza oltre a due modesti tratti stradali in corrispondenza di due incroci all'inizio al termine incroci con la strada vicinale della Burana e la strada vicinale del Torre del Boiano e l'annessione invece alla stessa strada vicinale di un tratto di strada della stessa lunghezza costruito dalla proprietà dell'area signora Davoli Teresa all'Atere questo fondamentalmente per la strada vecchia attraversava la proprietà loro hanno chiesto a suo tempo di spostarla per poter anche in un certo senso essere svincolati dal passaggio delle persone le aree coinvolte dai lavori risultano intestate per quanto concerne le due proprietà la signora Davoli Teresa mentre per quanto riguarda l'usufrutto sono della madre signora Boschi Maria Lucia l'area da sdemanializzare abbiamo detto la strada è lunga 195 metri in termini di superficie siamo su 680 metri quadrati l'area di proprietà privata su cui si chiede invece il trasferimento di la demanializzazione ha la stessa superficie esatta di 680 metri quadrati il tutto è documentato dalle parcelle dalla valutazione catastale che è allegata alla documentazione è una questione un po' lunga questa dobbiamo fare un po' di storia perché è iniziata esattamente nove anni fa nel 2005 in quando la signora Boschi Maria Lucia ha depositato una richiesta di permesso di costruzione di realizzazione di questo nuovo tronco di strada con contestuale richiesta di declassificazione della precedente nel liter di approvazione del permesso di costruire l'ufficio tecnico chiese preventivamente prima di dare il permesso di costruire all'amministrazione che si pronunciasse prima sulla volontà di accettare questa possibilità di sdemanilizzazione e di demanilizzazione prima di fare l'atto il consiglio comunale si pronunciò in modo favorevole nel marzo 2006 a questo punto venne rilasciato il permesso di costruzione aprile 2006 con prescrizioni e in particolare la prescrizione che il nuovo tronco da realizzare avesse caratteristiche oltre che la superficie avesse anche caratteristiche analoghe a quelle del tratto esistente la signora Boschi ritirò il permesso di costruzione ma un anno dopo maggio 2007 richiese di poter avere immediatamente l'autorizzazione e la sdemanilizzazione anche se le opere non erano ancora state ultimate in particolare dichiarava che non era ancora stata realizzata la massicciata e l'ingaiamento della nuova strada l'amministrazione comunale non ritenne di accettare la richiesta in quanto la sdemanilizzazione era possibile secondo quanto deciso dal consiglio comunale soltanto a collaudo dell'opera avvenuta l'opera non poteva essere collaudata perché per stessa dichiarazione dei proprietari le opere non erano terminate è passato a questo punto un altro anno arriviamo al 2008 marzo in cui viene presentato un nuovo richiesta di permesso di costruzione nella quale venivano chieste due cose una una modesta variante esecutiva al tracciato secondo di sostituire alla pavimentazione cioè alla massicciata e all'inghaiamento una pavimentazione in terra semplice senza esecuzione delle altre due opere a luglio viene accettato cioè viene accettato viene rilasciato un nuovo permesso di costruzione ribadendo nell'atto comunque che la citazione di quanto proposto era materia di delibera comunale in quanto si chiedeva una cosa diversa da quella su cui si era pronunciato nel 2006 il consiglio comunale sono passati tre anni e nell'agosto 2011 è stato depositato all'ufficio tecnico la comunicazione di ultimazione dei lavori con la relativa scheda tecnica descrittiva con il frazionamento catastale delle particelle interessate sia della vecchia situazione che della nuova però dalla relazione che ha fatto l'ufficio tecnico comunale era evidente che il tratto di strada da rendere vicinale da demanializzare non era conforme a quelli che erano le caratteristiche di carabilità richieste dal consiglio comunale al suo tempo in quanto le opere ripeto massicciate e ingaiamento non erano state realizzate a questo punto anche perché si vedeva che la cosa diventava assolutamente non non si chiude non si riusciva a chiudere è stato quantificato che il lavoro mancante cioè il costo della massicciata è stato quantificato della massicciata e l'inghaiamento è stato quantificato in poco meno di 8 mila euro 7.940 a questo punto un anno dopo siamo all'ottobre del 2013 ormai la signora Boschi segnalava che innanzitutto la strada che di cui si richiedeva la sdemanalizzazione a suo tempo non era inghaiata e che l'inghaiamento era stato effettuato a spese proprio della proprietà quando avevano deciso di mettere la ghiaia sulla strada davanti a casa oltretutto il nuovo strato di strada secondo le dichiarazioni della signora Boschi risulta migliore quindi è un'opinione quindi del tratto vicinale a questo punto proponeva che anziché la compensazione di eventuali spese per le opere non realizzate ribadiva che loro avevano nel frattempo parliamo siamo nella primavera dell'anno scorso all'ottobre dell'anno scorso che nella primavera tutte le fenomeni piovosi eccetera avevano creato grossi danni di instabilità alla strada invece che va da via Batteperoni a Torre del Boriano che è una strada privata e avevano dovuto fare molti lavori quantificati in 26.258 euro a questo punto diceva siccome loro richiedono che siccome questa strada è una strada che oltre che a portare la Torre del Boriano ha anche la possibilità di e viene utilizzata dai mezzi delle aziende di servizio che danno servizio al comune in particolare IREN per quanto riguarda l'acquedotto un ramo dell'acquedotto di Montebosso e ENEL per quanto riguarda invece una gabina elettrica che è da quelle parti praticamente dice noi abbiamo messo a posto la strada questa serve anche ai vostri mezzi e quindi praticamente noi vi diamo la possibilità di utilizzare questa strada in alternativa a fare l'inghiaiamento e la massicciata su quell'altra a questo punto quello che la giunta propone al consiglio visto che il consiglio deve fare un qualcosa che cambia quello fatto del consiglio del 2006 praticamente di accettare questa proposta e di dare alla proprietà la scelta fra le due opzioni cioè pagare i 7.960 quelli che sono euro per le opere non realizzate oppure accetta la proposta di la compensazione con i lavori fatti su via torre del via del collegamento tra via peroni e la torre del boiano purché la proprietà depositi presso l'ufficio tecnico comunale coppia coppia conforme della documentazione fiscale quindi le fatture con i doni della descrizione del lavoro e le reti di pagamento relativi agli interventi fatti su quest'ultima strada con relativo asseveramento tecnico questo entro sei mesi di conseguenza lasciamo la proposta è quella di lasciare la scelta direttamente alla proprietà è chiaro che se entro i 180 giorni non sarà stato fatto né una cosa né l'altra la delibera che chiediamo di approvare questa sera praticamente perde assolutamente di validità grazie ci sono domande in merito o interventi se non ci sono metto ai voti la proposta della giunta chi vota a favore è pregato di alzare la mano 10 chi vota contro chi si astiene in tre distante Barillari e Lazzolini c'è l'immediata esecutività qua sì chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto 10 chi si astiene 3 grazie punto numero 8 e passiamo di nuovo la parola al dottor Leoni piano di recupero di iniziativa privata denominato PR4 questo è il piano di recupero intervento su Caricardi che normalmente è nota come Bizozzero a San Vitale che questo consiglio comunale ha adottato nell'aprilo 2013 delibera 21 il piano di recupero proposto per l'approvazione è un piano che è variante al PRG in base all'articolo 15 della G47 per cui ha seguito tutto l'iter procedurale in questo periodo cioè dall'aprile del 2013 in poi previsto dalla legge 20 del 2000 e quindi adozione l'abbiamo fatta avviso presso l'albo pretorio dell'avvenuto deposito presso degli elaborati costitutivi e della facoltà di tutti i cittadini che ne avessero l'interesse di presentare opposizioni e osservazioni la notizia l'avviso di deposito è stato presentato alla gazzetta di parma è stato pubblicato sulla gazzetta di parma e gli atti sono stati trasmessi in coppia agli enti che dovranno dare i loro pareri quindi provincia di parma ASL ARPA commissione poi dopo le sono presentate alla commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio oltre naturalmente all'ufficio tecnico nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di compiuto e deposito nessuna opposizione né osservazione di privati è stata presentata per quanto riguarda gli enti interessati il responsabile di servizi igiene pubblica dell'ASL distretto sud-est ha dato parere favorevole con alcune prescrizioni che sono prescrizioni direi abbastanza classiche quindi messa in sicurezza prevedere la messa in sicurezza delle reti fognarie sia bianche che nere prevedere che durante l'esecuzione dei lavori siano dotati sistemi atti ad evitare sversamento di qualsiasi sostanza liquida o solida derivanti dai mezzi d'opera no quindi e quindi sono prescrizioni che l'ASL fa comunque su questa richiesta l'ufficio tecnico concorda con le prescrizioni indicate e chiede che in delibera si proponga o comunque si tenga presente che si metta obbligo che il progettista di piano proceda all'integrazione delle norme edilizie del piano con queste sollecitazioni dell'ASL secondo parere è quello di ARPA ARPA ha dato un parere del tutto favorevole compreso il parere sulla compatibilità acustica anche in questo caso un solo richiamo relativo al fatto che le norme di legge relative alla gestione del materiale di scavo sia adeguatamente controllato e che qualora durante gli scavi venissero tirate fuori presenza di serbatoici esterne interrate o d'altro la rimozione di queste sia fatta secondo quando prevista dalle relative norme di legge è solo una raccomandazione e quindi è evidente che va tenuta presente ma è una raccomandazione più di controllo che non di o che viene fatta comunicazione anche di questa alla proprietà la commissione di qualità architettronica del paesaggio ha dato parere completamente favorevole l'amministrazione provinciale ha fatto una delibera di giunta la numero 490 2013 che nella quale viene formulato una riserva la riserva dice si ritiene necessario un approfondimento finalizzato la valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale del collegamento viario proposto che appare uno stralcio di quello previsto nel documento preliminare di PSC sul quale la giunta provinciale aveva a suo tempo espresso perplessità attraverso la delibera di giunta provinciale la 656 del 2010 ora per interpretare correttamente questa riserva della giunta provinciale si ricorda che la delibera citata quella del 2010 come è scritto esattamente lì non si riferiva al PSC ma al documento preliminare quello fatto in sede di conferenza di conferenza di programmazione in questo e diceva testualmente si esprimono le propostità in margine della previsione della circonvallazione a San Vitale che ancorché motivata dall'attraversamento disagevole del nucleo abitato interessa un ambito con valori paesagistici ambientali andrebbe quindi meglio verificata l'ipotege proposta ricercando una soluzione meno impattante allora quello che noi proponiamo al consiglio è di controdedurre alla giunta provinciale con questa ipotesi che vado a leggere stilata dall'ufficio tecnico in accordo con l'ufficio tecnico il PSC adottato quindi non il documento preliminare ma quello adottato prevede una doppia viabilità di circonvallazione di progetto per il nucleo di San Vitale e Vaganza una localizzata a nord dell'abitato e collegata alla previsione di realizzazione del nuovo ambito residenziale AN5 la quale rappresenta fra le due alternative quella effettivamente auspicata dall'amministrazione comunale anche se di attuazione futura e incerta in quanto subordinata all'attuazione del comparto stesso l'altra proposta è quella a sud della frazione che rientra appunto nel comparto nell'ambito del progetto del PR4 quest'ultima alternativa è la risoluzione più immediata ad una problematica esistente a San Vitale e che è riconosciuta dalla stessa amministrazione nella riserva fatta la parte di circonvallazione prevista nel PSC localizzata all'interno del piano di recupero PR4 rappresenta una viabilità alternativa a quella esistente avente natura temporanea e a basso impatto territoriale per i seguenti motivi il materiale utilizzato per alimentazione è lo stabilizzato e quindi assolutamente naturale non impattante secondo la dimensione in termini di sezione stradale è limitata attorno ai 5-4 metri e il tracciato stradale segue il normale andamento naturale del terreno limitando pertanto al minimo i volumi di scavo e riporto che saranno originati in sede di costruzione con pendenza media non elevata comportando in tal senso un impatto sul territorio e l'ambiente inferiore rispetto a quello che comporterebbe la viabilità diciamo invece a nord terzo la strada resta di proprietà privata e sulla medesima è restituita un servizio di passaggio ad esercitarsi uticivis la quale questa servitù ha durata temporanea massima di anni 30 ma può essere anche inferiore rispetto a tale termine temporale se richiesto dal proprietario subordinatamente la neutralizzazione con l'auto e la viabilità a nord pertanto una volta estinta il diritto di servitù 30 anni o comunque prima se prima viene realizzato la N5 come è peraltro contenuto nel disciplinare del piano della convenzione urbanistica la viabilità di comparto assumerà tutti gli effetti connotati di stradello privato inghiaiato non sarà più uno stradello di circonvallazione quello che proponiamo quindi all'organo consigliare è di procedere alla contradduzione della riserva provinciale come ho illustrato e all'approvazione del piano particolareggiato definitiva con le modifiche di recepimento delle prescrizioni formulate nei pareri da ASL ARPA come è stato prima indicato grazie è aperta da seduta gli interventi distante allora questa sera parliamo di di strade dalle più piccole al PR4 e poi addirittura a quartieri interi PP20 noi oramai ci rischiamo di ripeterci ma meglio ripetersi da questo punto di vista che dirlo una volta in meno siamo contro il consumo di territorio su quello purtroppo mi spiace per voi ma noi risultiamo una spina nel fianco da questo punto di vista questa strada questa strada di conseguenza la riteniamo poco utile se un altro per l'impatto ambientale anche se la contradduzione dice che non è così noi invece una volta tanto siamo d'accordo con la provincia che invece ritiene necessario appunto un approfondimento finalizzato alla valutazione di sostenibilità territoriale approfondimento che è stato fatto ovviamente diciamo di parte e di conseguenza tranquillamente avallato avalla quello che invece è nel PSC il che preclude oltretutto quello che è la AN5 si si dico quello che sarà poi eventualmente AN5 quindi si parla a volte con dubbio a volte con desolante certezza quello che sarà invece un'altra cementificazione probabile io mi rendo conto che ci sono che ci servono soldi perché insomma i soldi servono all'amministrazione quindi come tale si cerca di far cassa da tutte le parti d'altronde non condividiamo questo punto di vista e quindi di conseguenza addirittura lo condegniamo e ho avuto modo di guardare anche se purtroppo molto velocemente ma per sommi capi e poi con la conoscenza che mi compete che è ovviamente limitata rispetto a quella che si dovrebbe avere per riuscire a leggere con la giusta consapevolezza queste carte ho visto delle incongruenze che comunque sono passate dei punti di vista perché comunque scrivere le opere introdotte non andranno a modificare significativamente il clima parliamo per esempio di quello acustico pur essendoci comunque sia dei decibel in più questo oltretutto può sembrare soggettivo proviamo ad abitare in una casa dove si passa da un da un inquinamento seppur piccolo a uno leggermente più piccolo andiamo a parlare per esempio chi abita nei boschi dove c'è un inquinamento acustico pari a zero se c'è un gatto che miagola si sente tantissimo quindi diventa soggettiva la cosa quindi minimizzare quelli che sono invece le zone di vulnerabilità considerando che poi invece stiamo parlando di una zona così come anche riportato un'area con vulnerabilità a sensibilità elevata per quanto riguarda invece la tutela e la vulnerabilità degli acquiferi ovviamente si dice che ci saranno delle coperture delle 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 premesse per far sì che ciò non succeda ma questo sappiamo benissimo che non sarà arginabile al 100% quindi ci troviamo già in una zona in cui le falde acquifere sono altamente inquinate e noi aumentiamo la possibilità di inquinamento delle stesse e poi senza parlare ovviamente di quelle che possono essere la zona la zona che si muove tutta quella zona infatti nelle tavole è ben descritto vabbè i locali rimarranno quattro sono stati leggermente variate la destinazione d'uso dello stesso che a suo tempo era stato cambiato da scuola è stato convertito in residenza come se giustamente di scuola non ce ne fosse bisogno per quanto riguarda le tavole salcio ripresa aerofotogrammetrica si nota per esempio uno straccio carta geologica si nota che è nella zona rossa frane attive e questa questa futura bellissima strada e nella carta geomorfologica la 4b altra zona rossa con frane attive straccio carta pericolosità sismica tavola 4c in zona dissesti rossa anche questa straccio stralcio carta vulnerabilità tavola 4d questa volta nella zona viola più bellina dove c'è scritto invece vulnerabilità elevata stralcio carta della fattibilità delle trasformazioni tavola 4a insomma ho visto parecchie situazioni che come in ogni costruzione ovviamente ci sono è chiaro che sì potrei dire vabbè è una stradina fatta in forma naturale però comunque sia signori questo è un altro consumo di territorio in vista di quella che sarà purtroppo immagino in futuro spero di no la N5 ricordo poi alla fine che comunque è ubicata in un contesto territoriale a vocazione prettamente ex prettamente agricolo il rischio idraulico è vero che ci sono tutte le assicurazioni del caso però come c'è scritto sul rischio idraulico l'area si collica in sinistra idraulica del torrente Baganza distanza 50-70 metri quindi noi che stiamo dicendo i chilometri quindi va unitamente alle condizioni morfologiche e alla differenza di quota in essere non prefigurano rischi di esondabilità per l'area in oggetto non prefigurano rischi di esondabilità per l'area in oggetto in particolare gli studi condotti per la citata Asta Flurvia per la citata dall'ingegner Alifraco nel 1986 quindi stiamo parlando di 30 anni fa circa evidenziano evidenziano le condizioni di sicurezza dell'area in relazione ad eventi di piena con tempo di ritorno centennale mi sembra queste parole di averle sentite non più di due anni fa quando non si pensava purtroppo quello che sarebbe successo e qua invece come vedete si riprende uno studio condotto in tempi certi questo per fare una breve sintesi sono riuscito a tagliare un po' di interventi perché non è bello polemizzare più bello invece pensare dire quello che si pensa in maniera molto chiara e corretta siamo assolutamente contro questa strada così come saremo contro il PP20 ogni costruzione fatta senza nessun reale bisogno grazie beh senza nessun reale bisogno lo andrei a chiedere a chi abita San Vitale comunque questa era solo una parentesi altri che vogliono intervenire Ronchini dispiace un po' dover intervenire ancora su una questione che è stata ampiamente dibattuta in due consigli comunali per cui le questioni e gli argomenti a favore di questa operazione sono già noti sono già gli atti però vale la pena ripetere dal momento che sono state ripetute anche le motivazioni e argomentazioni contrarie e un po' polemizzo invece perché da una parte riconosco in parte voglio riconoscere la buona fede di Giuseppe ma riconosco anche altrettanto la pregiudizialità delle sue argomentazioni e anche una certa presunzione nell'arrogarsi competenze di carattere geologico eccetera che nessuno di noi ha per cui ci si deve anche un po' fidare degli organi competenti i quali tutti senza nessuna eccezione hanno dato parere favorevole a parte che appunto nessuno è intervenuto con osservazioni contrarie alla proposta ma anche gli enti Ausl Arpa Provincia Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio l'Ufficio Tecnico hanno dato parole favorevole quindi o si presume una catena di incompetenze sconcertante o si presume qualcosa di anche più grave insomma così non credo che sia detto questo di fatto si va a ripetere e a risottolineare delle questioni che già sono state sottolineate e in particolare che stiamo parlando di uno stradello cioè di un'opera che passato il periodo identificato cioè 30 anni qualora non dovesse essere non si dovesse procedere prima alla N5 una volta terminato l'uso della quale diventa uno stradello inghiaiato quindi l'argomentazione di Giuseppe mi sembrava più coerente con una non so una bretella autostradale stiamo parlando di uno stradello che diventa uno stradello ghiaiato e che oltretutto quindi tra l'altro ha un uso temporaneo di basso impatto ambientale perché è uno stradello inghiaiato quindi non c'è neanche una cementificazione tra l'altro quindi il termine cementificazione è tutto inappropriato proprio letteralmente inappropriato e oltretutto va a risolvere una come dire va a risolvere un tentare quanto meno poi di risolvere un disagio che è quello relativo al passaggio dei mezzi dentro all'abitato di San Vitale dentro al borgo di San Vitale io credo tutto sommato che sia molto meno impattante l'utilizzo di uno stradello al di fuori del borgo di quelle caratteristiche piuttosto che consentire i mezzi di transitare all'interno del borgo secondo me ecco sì aggiungo un'altra nota polemica se mi si permette cioè che è molto semplice molto facile dirsi eroicamente contro il consumo del territorio e fare battaglie di questo tipo quando non si non si governa perché laddove si governa mi rendo conto che invece il consumo del territorio non è poi quella priorità così evidente che invece viene sbandierata all'opposizione grazie altri sì distante allora no non polemizzo invece rispondo dunque pareri favorevoli sono sono dati da persone che si devono attenere a certi permessi a certe leggi le stesse persone alcune di queste che hanno dato l'ok per degli inceneritori per esempio quindi se permetti e questa non è polemica io di queste persone non mi fido se uno stradello di 4 metri lo chiami una stradellino beh allora si è abituato a camminare su delle autostrade da 8 metri il parere inappropriato su cementificazione mi spiace per te ma quello che mi ha colpito davvero che è il motivo per cui poi alla fine ho risposto è che in effetti mi dà ragione cioè se un'amministrazione deve non deve avere il consumo del territorio parole tue come priorità e allora non va bene per il mio ideale di amministrazione di conseguenza ovviamente ribatto assolutamente su queste idee che io ritengo essere alta cementificazione e dobbiamo ancora passare al PP20 bene altri Deone io volevo soltanto sull'osservazione di distante dire un paio di cose innanzitutto ricordiamoci che questo è un piano di recupero di un esistente che è un esistente di 250 o 300 anni fa se non di più e quindi non è prevista nessuna costruzione che non sia quella adeguata come piano di ricupero e quindi qua parlare di cementificazione non c'è è un ricupero di una cosa assolutamente eccellente come tipologia che viene fatta a suo tempo è stata lasciata per parecchi anni nel PRG esistente quindi all'89 in poi con la destinazione che aveva agli inizi del secolo scorso quando appunto Bizzozzero faceva le famose scuole agrarie in giro per la provincia poi dopo praticamente nessuno si è più sognato di fare un'attività scolastica in quello per cui è stata acquisita da dei privati questi privati hanno chiesto di recuperare chiaramente recuperandolo per destinazione diversa da quella a cui era prevista a suo tempo abbiamo accettato questo e abbiamo approvato adottato il piano di recupero e le altre osservazioni quanto riguarda sì vabbè tu hai risposto adesso dicendo che i pareri li danno quelli però li danno quelli che devono darli cioè la valutazione acustica l'ASL non l'ha assolutamente tenuta in considerazione perché non ha ritenuto assolutamente che ci fossero problemi di questo genere poi sulle strade c'è sempre una valutazione un po' particolare il discorso di sondabilità va bene le aerofotogrammetrie però bisogna anche guardarlo il territorio cioè le inondazioni in genere vanno a livello del fiume avere inondazioni e esondazioni a 30 40 50 metri di altezza probabilmente ci sarebbe veramente da preoccuparsi perché non è soltanto il campo sportivo di San Vitale in questo caso che potrebbe essere inondato ma forse mezzo mondo insomma qua si parla di diluvio universale se il Baganza va a finire a San Vitale in alto per questa strada ricordiamoci parte da sopra la chiesa di San Vitale quindi parlare di esondabilità mi sembra un po' eccessivo non tanto nei centennali ma forse qualcosa neanche di più in questo senso quindi secondo me le osservazioni il discorso poi che ci sia uno studio a suo tempo fatto da Alifraco in questo genere ricordiamoci che innanzitutto lo studio molto probabilmente riguardava l'area a est della strada che quando l'est della strada dove abbiamo il campo sportivo abbiamo un insediamento produttivo costruito negli anni 60-70 abbiamo delle case e abbiamo anche a valle di questo a valle di questo a valle diciamo non a valle diciamo spostati più verso Paganza e c'era anche la scuola elementare di San Vitale che ha lavorato per almeno 30-40 anni la storia di Italia e che adesso è proprietà comunale e ci sono delle case per i di proprietà del comune quindi diciamo mi sembra che la cosa sia la seconda cosa è che Alifrago il dottore Alifrago come hai detto tu è l'attuale dirigente della provincia che ha dato il parere quindi a un certo momento se avesse avuto problemi di carattere sulle sondabilità probabilmente li avrebbe anche previsti nel parere che ha dato come funzionario della provincia quindi direi che forse nel 1984 come studente avevo fatto qualche studio diverso poi come dico sarebbe opportuno valutare qual è l'area niente mi toglie che abbia detto che quello che poi è diventato il campo di visione d'Italia poteva essere esondabile perché questo lo sappiamo l'abbiamo anche avuto esondato però qua siamo di un'area esattamente dall'altra parte della strada e diciamo qualche metro e qualche decina di metri in più elevata di quello che è il letto del baganza io se posso faccio solo una precisazione riguardo la scuola la scuola di San Vitale fu chiusa all'epoca in cui venivano chiuse tutte le scuole che erano a rischio oppure già in esercizio di pluriclassi e portati da allora servizio trasporto che porta i bambini cioè è proprio non l'ho capita sinceramente quella sulla scuola quindi mi sembrava anche se non c'entra niente con questo ragionamento ma come se qualcuno pensasse di chiudere una scuola funzionante per farci una strada cioè proprio non l'avevo ben capita se ci sono altri gli do la parola Azzolini Sì al di là dei pareri tecnici che chiaramente non mi addentro in quanto non competente questa è stata una scelta politica e come scelta politica noi già nel precedente consiglio comunale del maggio del 2012 abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà a distruggere perché questa è una distruzione di un capitale storico di questo territorio sulla quale l'attuale amministrazione e il consigliere di maggioranza si prenderanno le dovute responsabilità nei tempi a venire e questo cambio di destinazione d'uso che è stato fatto a nostro avviso impropriamente praticamente ci guadagna solo una famiglia come già abbiamo detto nella precedente occasione e in più per uno stradello che il passaggio già era in essere in tempi neanche troppo lontani quindi penso che questa famiglia vi ringrazierà per i prossimi anni se riuscirà a vendere tenuto conto di tutto l'invenduto che in quel di sala ancora oggi abbiamo quindi è una decisione chiaramente tutta vostra sulla quale peseranno nella storia del vostro lavoro fatto nell'amministrazione comunale come una responsabilità notevole che io chiamerei in questo caso una colpa bene grazie ci sono altri allora noi non l'abbiamo considerato una colpa ma un un grande risultato il poter finalmente dare la possibilità a San Vitale di poter passare non sempre in quella strettoia del borgo e non solo in quella strettoia ma comunque le opinioni sono varie quindi e quindi per noi va bene così e a questo punto se non c'è più nessun intervento la metto ai voti il punto numero non lo so più 8 chi vota a favore ha pregato di alzare la mano 10 chi vota contro 1 e chi si astiene contro o stenuti quindi 3 no eravamo un attimo distratti quindi quando ho detto contro stavi chiacchierando bene l'immediata esecutività dell'atto grazie sempre 10 chi vota contro 3 dottor leoni punto numero 9 abbiamo qua come oggetto l'approvazione del piano particolare giante di stiva pubblica il pp20 che è quello posto tra via gruza via figlia della croce che questo consiglio ha adottato con delibera 31 del 27 maggio 2013 il piano particolare di stiva pubblica diciamo ha comportato la variante al PRG quindi tutte le cose che ho detto prima per il PR4 valgono anche adesso pubblicazione osservazioni pareri allora per quanto riguarda in più che in questo caso per questione di territorialità la richiesta di presta è fatta anche all'ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'emiglio occidentale boschi di carrega in quanto il terreno è coinvolto nel perimetro di preparco nei 30 giorni decorrenti la data del compiuto deposito non sono pervenute opposizioni né osservazioni da parte di chiunque allora i vari pareri proposti sono questi li elenco uno per uno dando immediatamente quello che intendiamo fare in merito responsabile dell'asla ha dato le stesse osservazioni fatte per in precedente quindi attenzione a minimizzare il rischio di infiltrazioni in rete fognaria sia bianca che nera prevedere che le acque meteoriche quella lì poi prevedere che durante l'esecuzione dei lavori durante i sistemi atti a evitare sversamenti di qualsiasi genere da parte dei mezzi di cantiere e poi ne ha messo anche un'altra la numero 4 prevedere che l'edificio da realizzarsi nell'otto 24 sia preferibilmente di tipologia monofamiliare e posizionato il più lontano possibile dal pozzo che c'è lì tra via Marconi via Case Marconi e via Gruzza via Anime allora nel concordare con le prescrizioni 1 2 3 e 5 si ritiene opportuno come quella precedente di richiedere che vengano inserite organicamente all'interno della normativa di piano prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica per quanto riguarda il punto 4 quello relativo all'otto 24 trattandoci di suggerimento non si formulano indicazioni le indicazioni comunque verranno fornite alla proprietà e al progettista l'ARPA di Parma ha dato anch'esso parere favorevole contenente espressi richiami al rispetto delle norme e delle legge in particolare anche in questo caso gli allacciaventi della rete fognaria che devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni dell'ente gestore della rete fognaria e che tutto il materiale di scavo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge quindi esattamente identico a quello del PR4 la commissione della qualità che trova il paesaggio ha espresso parere favorevole da parte dell'ente gestione dei parchi di Emilia Romagna è stato espresso il parere di conformità ed è stata effettuata la valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni due la prima che venga prevista la messa a dimora di appoggi le quinte arbore ed arbustive al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico ambientale ed edificato in particolare verso la zona per le attrezzature sportive ricreative a sud dell'ambito cioè il campo da golf secondo che venga predisposto a specifico progetto che individui gli interventi di tutela e di valorizzazione del ramo della canaletta di sala presente all'interno dell'ambito in base a quanto previsto anche dall'articolo 10 del PSC a queste prescrizioni contenute nel parere si concorda pienamente con esse chiedendone l'inserimento all'interno della normativa di piano quindi chiederemo che prima della convenzione vengano inserite nella normativa di piano e in merito alla seconda si fa presente che il progettista proprio tra quattro giorni fa ha prodotto la documentazione progettuale richiesta che è stata valutata soddisfacente in modo totale le richieste formulate dall'ente parco il quinto parere è quello della provincia di Parma che si è espressa con delibera di giunta 178 valutando positivamente il piano particolarato in esame con tutti gli aspetti di competenza ritenendo di non formulare osservazioni per quanto riguarda l'articolo 12 del decreto legislativo 4 2008 ha ritenuto che il piano non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale alla VAS valutazione ambientale strategica dobbiamo anche dire che i pareri in questo caso sono tutti accettati e comunque in gran parte sono pareri che non danno nessuna prescrizione se non quelle standard di ASL e di ARPA in più le due del gestore Moschi di Carrega con la nuova digitura devo ricordare che nella delibera di consiglio comunale erano state poste alcune condizioni che in questo caso vengono rispettate una di carattere diciamo relativo a di predisporre che non era stato previsto allora la documentazione sismica acustica inquinamento acustico e altre matrici ambientali che sono state successivamente presentate e il discorso della conformità alla strumentazione urbanistica nel regime di salvaguardia che praticamente è rispettoso di quanto previsto nel PSC e RUE che abbiamo adottato lo scorso luglio in quanto tutti gli ambiti ANC che sono gli ambiti per i nuovi insediamenti già previsti dal PRG previgente confermati è possibile procedere alla narrativa approvazione senza passare attraverso il POC purché le convenzioni vengano firmate prima del primo POC pertanto si propone all'organo consigliare di approvare il piano particolareggiato con le indicazioni già formulate nella libera deduzione e a condizione che vengano introdotte le modifiche di ricepimento delle prescrizioni come indicato sopra e che il progettista di piano proceda all'adeguamento cartografico conseguente alle modifiche prima della trasmissione della presente variante agli enti competenti regione provincia in quanto ripeto essendo anche questa una variante di PRG la trafila è in questo senso voglio soltanto ricordare che con l'approvazione del PP20 si delibera anche l'accessione della capacità edificatoria originata dall'area di proprietà comunale interna coinvolta nel piano particolareggiato a favore del sostitutore proprietario del PP20 in cambio del corrispettivo della sala a favore del comune di Sala Baganza in proporzione della superficie utile adesso ceduta il tutto secondo le modalità indicato dello schema di convenzione urbanistica che è restituto il piano di partitore del PP20 che era già presente nella convenzione in cui è restituta l'adozione e che chiaramente viene confermata in questo momento al momento della approvazione definitiva bene chi vuole intervenire distante vabbè tralascio ripeto non voglio essere polemico voglio essere costruttivo ovviamente siamo contro contro il PP20 contro la cementificazione contro il consumo del suolo perché il suolo ha una grossa importanza e questo lo dico a chi prima mi ha schiaffeggiato con le parole dicendo che non è una priorità di un'amministrazione il suolo come risorsa ambientale il consumo di suolo è prima di tutto un danno ambientale questa considerazione non deve essere così banale se fino ad oggi ben poche legislazioni ambientali lo hanno considerato tale anteponendo la regolazione del diritto di proprietà al profondo e autentico significato di bene comune che il suolo contiene un danno le cui dimensioni derivano dalla compromissione delle funzioni chimiche fisiche e biologiche che il suolo svolge come comparto ambientale della biosfera nonché dal significato ecologico dell'organizzazione degli spazi in rapporto sia alle espressioni della biodiversità sia degli organismi economici e sociali solo per citare i casi più notevoli dal suolo dipende la funzione produttiva primaria ovvia la produzione di biomasse vegetali e di materie prime della trasformazione agroalimentare la regolazione del ciclo dell'acqua il rifornimento delle riserve di acqua dolce la sicurezza idrogeologica sicurezza idrogeologica ricordiamo la regolazione dei cicli degli elementi fondamentali per la vita azoto fosforo zolfo e la degradazione di sostanze tossiche la produttività biologica dei sistemi ambientali terrestri da cui dipende la conservazione della biodiversità intrinseca organismi del suolo e di quella appoggiata al suolo la funzione connessa alla riserva strategica di superfici atte a far fronte a bisogni e aspettative di benessere delle attuali e future generazioni nonché ad assicurare la sovranità e la sicurezza alimentare di ogni popolo signori ripeto la sovranità e la sicurezza alimentare di ogni popolo è un punto molto importante che vi invito ad approfondire personalmente l'organizzazione degli spazi necessari a localizzarvi e a connettere gli organismi urbani e le relative funzioni economiche e sociali la regolazione climatica riferita in primo luogo la funzione di sink carbonico assicurato dalla sostanza organica di suoli e vegetazioni quest'ultimo aspetto che potrebbe apparire secondario assume un ruolo molto rilevante alla luce del rapporto della commissione europea invece che svela come i suoli europei contengano da 73 a 79 miliardi di tonnellate di carbonio e che pertanto ogni perdita anche solo dello 0,1% di questo carbonio equivale all'emissione di CO2 prodotto da un aumento di ben 100 milioni di auto circolanti sulle strade europee sto cercando di spiegare perché noi diamo tale importanza al consumo di suolo non perché siamo solo amanti della terra si impone dunque di centrare l'attenzione sul protagonista il suolo appunto oltre che sulle sue apparenze paesaggistiche per dirsi che nel nostro sistema di norme e principi e principi è necessaria una nuova codifica che conferisca al suolo un riconoscimento di bene comune che fino a ora è mancato è il suolo il presupposto della ricchezza di una nazione conservarlo e mantenerlo in buona salute produce più ricchezza è meglio distribuita di quanto ne possa produrre la sua distruzione l'Emilia Romagna per esempio tra il 94 e il 2003 ha incrementato il territorio urbanizzato quasi del 52% e benché nel coinquegno successivo abbia ridimensionato in maniera decisa gli accrescimenti quindi parliamo dell'8% presenta un'occupazione del suolo ingombrante che a partire dal 76 a oggi ha visto il raddoppio delle aree cementificate il settore immobiliare strategia privilegiata della politica economica sia a livello nazionale che sul piano locale dove la debolezza dei trasferimenti erode la capacità di spese è di sensibilità degli amministratori rei di protagonismo liberista che si intreccia a interessi poco limpidi certe volte la pianificazione del territorio è un atto politico che coinvolge l'interesse collettivo dell'insieme dei cittadini delle generazioni future non può soggiacere agli impulsi del mercato ai ricatti dei gruppi di pressione economici implica responsabilità morale e civile equità rispetto delle volontà sociali e lungimiranza cosa che evidentemente non è mi spiace dirlo in questa amministrazione lungimiranza grazie grazie altri azzolini questa sera abbiamo dato un colpo mortale al territorio salese di cui vi sarete responsabili per i prossimi centinaia voi non ci sarete più ma diranno quell'amministrazione ha rovinato ha rovinato il territorio di sana state facendo tutto quello che può servire per far sì che in questa piccola comunità ci saranno tante case molte invendute e non ci saranno servizi tant'è che avete approvate una una variante di notevole importanza senza mettere in conto che alcuni servizi in questo paese mancano ora direte si polemizza sempre e potrebbe anche starci se davvero non ci fossero i problemi che in questo paese ci sono e che tutti voi cari amministratori di maggioranza fingete di non conoscere si costruiscono ancora appartamenti case con l'approvazione di tutti gli organi competenti vediamo a livello locale in piccolo è quello che succede a livello nazionale ci sono tanti organismi che controllano ma poi alla fine non controlla nessuno il povero Cristo ci rimette è prassi comune ci lamentiamo tutti ci lamentiamo tutti del cattivo governo nazionale ma io credo ed è una riflessione politica non certo legata al tecnicismo di questa approvazione ma è proprio quando il territorio non funziona che il territorio la piccola comunità non funziona che non può funzionare un territorio che non può funzionare a livello nazionale perché anche i rappresentanti che noi abbiamo al nazionale partono bene o male dal territorio e quando si supportano alcuni interessi a discapito di altri vedi la dichiarazione della maestra sulla scuola materna di Sala Baganza sarebbe opportuno che l'onorevole deputata maestra conoscesse anche che a sala aumenteranno di mille duemila persone ma non ci sono i servizi adeguati per queste mille duemila persone che ci sono in più allora è vero che tutti i tecnici tutti i tecnici del nostro territorio dall'ARPA all'USL chi più ne ha più ne metta hanno dato l'ok ma altrettanto è vero che politicamente voi state facendo un passaggio senza avere i dovuti servizi adeguati ora vabbè facciamo tante fate tante case mettete tanto cemento non ci sono strade per andare in città non ci sono servizi all'interno del paese abbiamo la DSL che tanto che chiedo e non ce l'abbiamo sì no beh c'è è molto limitata perché c'è per un piccolo numero di persone e le persone aumentano beh non è così comunque ho fatto un'interrogazione alla quale non è stata data una risposta se non che non è un vostro compito ma è pur sempre un servizio pubblico che se ne dica e se il servizio non viene erogato in modo adeguato è un servizio che manca ma la cosa più importante ed è quella che in questo momento è più conosciuta da tutto il nostro territorio è la mancanza di una scuola materna si fa una si approva un PRG di tale proporzione e non si dice una cosa su un servizio che in questo momento però è molto è relativo e quindi ripeto questa è una vostra responsabilità la colpa di questa amministrazione è quella di non programmare se non per fare cassa e questo è veramente un modo indegno di fare l'amministratore pubblico detto questo è chiaro che poi l'ARPA vi ha dato l'ok l'USL vi ha dato l'ok la provincia figuriamoci se non può lo stesso lo stesso sindaco è consigliere di maggioranza in provincia e voi vedete questo è questo è l'atteggiamento questo è il modo che c'è in questo paese di far politica ed è un modo sbagliato è un modo veramente sbagliato detto questo noi siamo contrarissimi bene scusa una precisazione sulla questione della provincia che Lazzolini dopo vent'anni che fa l'amministratore dovrebbe sapere che è un parere tecnico quello che dà la provincia quindi il fatto che il sindaco sia consigliere provinciale non è assolutamente rilevante sul parere tecnico ripeto tecnico che dà la provincia su queste cose Ronchini dunque parto da una precisazione mi dispiace però non ho mai detto che il suolo non deve essere una priorità delle amministrazioni ho detto che non la è delle amministrazioni vostre che è un'altra cosa eh vedi Parma dove vedi Parma dove ad esempio l'amministrazione Pizzarotti non ha mai fatto una marcia indietro io non ti ho interrotto io non ti ho interrotto allora io non ti ho interrotto però non ti ho interrotto scusami eh lascia parlare non hai il microfono allora sto sto soltanto sto precisando eh una sto cercando di precisare spiegare meglio una eh no sei molto educato allora questo è lo stile del Movimento 5 Stelle uno stile fascistoide e squadrista scusate scusate allora non sei tu non sei tu che dà la parola o che la toglie qua dentro i consiglieri comunali hanno diritto di parola tu hai fatto il tuo eh comizietto nessuno ti ha interrotto adesso la parola ce l'ha il professor Ronchini perfetto grazie allora stavo precisando la mia posizione che non è assolutamente quella che tu hai interpretato cioè io non ho mai detto che il il consumo di suolo eh non deve essere che il suolo non deve essere una priorità dell'amministrazione tutt'altro penso esattamente il contrario siccome io ho precisato nel mio intervento che invece stavo polemizzando ho detto esattamente un'altra cosa cioè che laddove per fortuna ancora poche le amministrazioni 5 stelle governano stanno dimostrando esattamente il contrario di quello che tu hai detto punto è una mia opinione non credo di aver usato toni offensivi e pretendo che tu non li usi con me grazie prima cosa seconda cosa non mi pare di aver usato toni offensivi con nessuno ok ho precisato una mia posizione torniamo al discorso è pertinente in quanto sono stati interpretati delle mie parole allora un'altra osservazione polemica visto per stare in sera nell'argomento ribadisco che è oltre modo fastidioso dover tornare sempre sugli stessi concetti doversi confrontare cercando di stare sulle questioni concrete avendo a che fare con una opposizione che per gran parte non dà mai un'osservazione pertinente sulle questioni mai parla sempre con caratteri demagogici all'inverno contro i quali è anche difficile discutere argomentare perché sui massimi sistemi ma possiamo anche trovarci d'accordo ma poi dopo si va stasera abbiamo sentito dei discorsi di demagogia sconcertante siamo partiti dalle insinuazioni velate implicite sullo stipendio del dottor pastore per arrivare all'alluvione a giudizio universale per poi fare dei gran pistolotti teorici sul consumo di suolo di tutto fino all'accusa di indegnità morale che va bene tranquillamente noi ormai ci portiamo a caso ogni volta che veniamo in consiglio comunale pazienza pazienza allora stasera al punto 9 c'è l'approvazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica pp20 che come dovreste sapere era era parte quella lottizzazione era parte del piano regolatore si tratta di si tratta di non l'abbiamo approvata noi fino a prova contraria si tratta di cercare di rendere ben fatto quel lavoro benissimo ok allora le osservazioni che sono state fatte ancora una volta nessuna ostativa da parte di tutti gli enti che hanno dato il loro parere e ancora una volta ecco un altro elemento di demagogia di questa sera la delegittimazione degli organi competenti sono tutti corrotti sono tutti incompetenti peccato che c'è gente che magari ha anche studiato e si è fatto una specializzazione su queste cose io sono anche un po' stufo di dover sempre dover difendere o delegittimare delle persone che hanno dedicato la vita a degli studi insomma per l'amor di Dio allora confrontiamoci di cose che sappiamo semmai comunque non c'è stata una sola osservazione ostativa da parte di questi enti e io aggiungo ma tutte queste osservazioni ma perché non vengono fatte nelle sedi opportune perché non c'è stata neppure un'osservazione oppositiva nei confronti del progetto me lo chiedo sinceramente me lo chiedo sinceramente se ci sono dei dubbi tecnici intendo dire se ci sono dei dubbi tecnici le osservazioni vanno fatte no? non urlare alla luna così insomma mi sembra francamente demagogico sterico inutile comunque ricordo soltanto un aspetto ricordo soltanto un aspetto di questa cosa che non è stato detto peraltro che in ogni caso anche in quello che andiamo a votare stasera non viene modificata la superficie utile edificabile complessiva che rimane quella di 3000 metri quadrati allora io credo che le osservazioni che sono state fatte vengono recepite e direi che più di così non si può fare punto basta ecco atteniamoci a quello che sta all'ordine del giorno le questioni sono queste i progetti sono queste le osservazioni che sono state fatte sono queste siamo d'accordo o meno basta questo mi sembra sia pertinente grazie altri? Azzolini alcune cose in risposta al capogruppo Ronchini nessuno ha alluso allo stipendio del dottor pastore semplicemente perché abbiamo chiesto dei numeri mi sembra una cosa più normale in delibera non c'erano e non sono state fatte allusione alcuna quando poi sempre il capogruppo il nuovo capogruppo parla di indegno abbiamo detto che è una responsabilità ho detto che è una responsabilità politica se poi si sente indegno vuol dire che da coscienza un pochino si vede che qualche cosa ogni tanto funziona ma noi abbiamo capogruppo noi abbiamo io parlato di una responsabilità politica nel trattamento del territorio noi qua non siamo dei tutologi non abbiamo chiaramente la competenza di parlare di urbanistica di suoni di assolutamente no il disegno politico di questo paese è un disegno che porta la responsabilità di questa amministrazione se questa è demagogia lei non ha capito niente di politica non posso certo fare non posso certo fare il tecnico e spero che non lo faccia nessuno di voi se non ne ha esattamente le competenze quando si parla di delegitimazione degli organi competenti teniamo presente che l'Aquila è caduta e sappiamo tutti com'è finita tenete presente cari amministratori di solidarietà del PD locale che a Livraco era responsabile delle acque anche prima dell'alluvione del 2011 a Sala ed è evidente che nonostante le competenze qualcuno lì ha sbagliato perché al di là del mesociclone c'era un muro c'è un muro che divide il quartiere dal il quartiere da un torrente voglio dire nessuno io non sono un esperto e non voglio fare l'esperta però no signore l'alluvione l'alluvione che c'è stata a Sala nel 2011 a Livraco era caro 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 assessore Leone mi piace quando ride perché c'ha un bel sorriso però se lei vuole se lei ben ricorda se lei ben ricorda mettiamolo sull'ironico perché è l'unico modo per potervi per poter dire al signore andate a quel paese alla fine cosa vuoi che ti dica ma se lei pensa che dove c'è il come si chiama quello dei fiori lì c'è stato fatto un muro tale no 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 l'avevi già fatto l'avevi già fatto ma quando ascolta no 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 carino tu ti stai il pubblico il pubblico non può parlare se non la smetti e esci grazie ok salgono salgono bene caro consigliere di maggioranza nel momento in cui è venuta l'alluvione che c'è tu ben sai e lì stavano lavorando e se tu fai un errore no stava lavorando la provincia ma che consigliere sei no non è veramente quello ma che razza no veramente sei tu che non conosci il posto riusciamo se vuoi ci andiamo a fare una passeggiata di fianco Antonio questa è una richiesta formale che io l'educazione non è certo della loro guarda almeno bene vogliamo tornare al punto all'ordine del giorno grazie grazie e il pubblico è pregato di tacere grazie si sente solo la tua voce è appunto grazie stavo dicendo che il dottore Alifraco era responsabile già allora era già un dirigente allora tenete conto c'è stato l'incendio di Monte Ardone c'è stata l'alluvione l'alluvione a Sala Baganza e i dirigenti sono sempre gli stessi evidentemente possono anche sbagliare poi vorrei dire vorrei fare una puntualizzazione soprattutto all'assessore Leone perché dopo 12 anni che sono in consiglio comunale l'ho visto sorridere e vorrei dire questo che nel quartiere di fianco al torrente Baganza c'è un muro costruito 20 anni fa ma nel 2011 quando è venuta l'alluvione lì ci stavano lavorando ed era molto semplice fare un buco perché scaricasse l'acqua nel torrente cosa che non è stata fatta quindi evidentemente anche i tecnici hanno insomma qualche errore forse magari inconsapevolmente ma lo fanno perché altrimenti avrebbero dato lo scolo i tre artigiani che abitano lì di fianco avevano due metri e mezzo di acqua in casa perché l'acqua non scolava nel torrente perché il torrente era stato chiuso da un errore di 20 anni fa ma mantenuto anche mentre facevano l'ultimo passaggio l'ultima pista ciclabile se il consigliere non mi ricordo più il tuo nome ma è lo stesso vai a dare un'occhiata caro vedi che quel muro non è a 25 anni ma ne ha pochi ne ha pochi stai tranquillo vai a darci un'occhiata e poi ne parli ne abbiamo già parlato anche in una e comunque l'acqua come diceva l'assessore Leone giustamente prima l'acqua va in basso non va in alto e appunto e allora mi dice perché il quartiere ma mi dice perché il quartiere lì era sott'acqua e il torrente era vuoto se l'acqua va giù e beh scusa bene dopo la lezione sulle esorrezioni ma è inutile è inutile comunque grazie vabbè vabbè sentite noi votiamo conto andate a quel paese bene la chiusura di stile è molto bella beh ma dai siamo in diretta streaming va benissimo bene allora a parte a parte sottolineare a parte sottolineare che a parte sottolineare che come avevamo già detto maggio e come è già stato ribadito da qualcuno i 3.000 metri che erano in origine rimangono quindi questa amministrazione non ha fatto altro che seguire una indicazione che già c'era sul territorio metto i voti il punto numero 9 chi vota a favore chi vota contro 3 immediata esecutività dell'atto 10 e chi vota contro è pregato di alzare la mano grazie 3 adesso arriviamo all'ultimo punto l'interpellanza del Movimento 5 Stelle sulla scuola materna che non c'è lo leggi tu Giuseppe ne abbiamo anche una coppia cartacea adesso si qua dentro adesso se allora la leggo perché è giusto allora la scuola è un bene di tutti allora premesso che la scuola è un bene di tutti che allo stato attuale i cittadini e soprattutto gli insegnanti i genitori non sono il corrente degli sviluppi o delle strade intraprese è compito dell'amministrazione informare i cittadini della strada che si sta percorrendo le iscrizioni per l'anno 2014 sono ad oggi un punto interrogativo sempre premesso che molte famiglie dovranno porre rimedio ad eventuali situazioni è premesso che siamo di fronte ad un evento già conosciuto da tempo dell'amministrazione e di questo deve farsi carico per la mancata divulgazione di tale notizia l'interpellante chiede al sindaco e alla giunta quali sono le misure che si stanno adottando quali garanzie hanno le persone interessate cittadini insegnanti famiglie coinvolte se si è valutata la possibilità di farsi carico economico di tale emergenza nell'eventualità dovesse protrarsi come spesso accade per tempi burocratici la risposta per la statalizzazione prevedendo l'assunzione di un insegnante per compensare o aiutare le suore che sarebbero propense a continuare la loro attività di indire un giorno prima possibile e non oltre la fine di gennaio per un incontro aperto al pubblico dove cittadini insegnanti o genitori potranno porre direttamente le domande al sindaco o alla giunta o meglio proporre soluzioni peronica per piacere per noi del movimento è chiara la posizione di trasparenza e condivisione delle azioni che si stanno facendo non vedendo tale trasparenza da parte dell'amministrazione ne sollecitiamo la funzione che dovrebbe essere il cardine della democrazia partecipata di cui ormai in troppi si appropriano del termine senza però spesso saperlo utilizzare o peggio facendone esclusivamente una campagna elettorale ringrazio anticipatamente per le risposte ai chiarimenti che fornirete alla presente anche in forma scritta Giuseppe Distante consigliere comunale Movimento 5 Stelle allora leggo la risposta se gliela puoi intanto passare ci sono le coppie per i capigruppo aspetta guarda che le coppie sono queste non vorrei che quella lì fosse quella d'originale la questione esclusivamente burocratica se una la passi anche a loro grazie allora premetto che l'amministrazione comunale ha dimostrato di considerare la scuola dell'infanzia un servizio molto importante sostenendola in tutti questi anni ricordo che dal 97 ad oggi c'è una convenzione ancora in atto e continuiamo ad impegnarci per dare continuità a questo servizio come abbiamo già dichiarato nel consiglio comunale del 21 novembre 2013 rispondo ribadendo le notizie già fornite all'intera comunità nell'assemblea pubblica del 15 gennaio 2014 e trasmessa anche in diretta streaming le azioni intraprese sono le seguenti in data 30 ottobre 2013 con atto numero 123 la giunta comunale ha deliberato di prendere atto della volontà espressa dalla provincia d'Italia congregazione suore figlie della croce approvando il programma di riorganizzazione dell'istituto comprensivo di Felino di cui il comune di Sala fa parte dando avvio alla procedura di richiesta di statalizzazione o in subordine di nuove istituzioni di 5 sezioni statali impegnandosi a mettere a disposizione degli istituenti e sezioni locali adeguati ai servizi di competenza in data 4 novembre 2013 il comune di Sala Baganza ha chiesto il parere della conferenza provinciale di coordinamento della provincia di Parma in data 6 e 7 novembre 2013 il comune di Sala Baganza ha acquisito i pareri favorevoli dei sindaci di Calestano e Felino facenti parte anch'essi dell'istituto comprensivo di Felino in data 12 novembre 2013 la legale rappresentante della provincia d'Italia suore figlie della croce ha inviato al comune di Sala Baganza una dichiarazione di interruzione della gestione e direzione della scuola dell'infanzia paritaria Balbi Carrega di Sala Baganza che cesserà il funzionamento a decorrere dal 1 agosto 2014 in data 13 novembre 2013 il comune di Sala Baganza ha trasmesso all'istituto comprensivo di Felino per gli adempimenti di competenza la domanda di statalizzazione o di istituzione di 5 sezioni in data 15 novembre 2013 la dichiarazione di cessazione dell'attività ricevuta dalla provincia d'Italia congregazione suore figlia della croce è stata inviata all'ufficio scolastico regionale istruzione non statale di Bologna il 19 novembre 2013 l'argomento di statalizzazione o istituzione di 5 nuove sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di Sala baganza è stato inserito nel verbale della conferenza provinciale di coordinamento della provincia di Parma in data 21 novembre con atto numero 56 il consiglio comunale ha preso atto delle volontà espresse dalla provincia d'Italia suore figlia della croce ed ha approvato il programma di riorganizzazione scolastica dando avvio alla procedura di richiesta di statalizzazione eccetera il 26 novembre la delibera del consiglio comunale numero 56 è stata trasmessa alla regione Emilia Romagna servizio istruzione e alla provincia di Parma servizio politica scolastica il 28 novembre 2013 con atto numero 585 la giunta della provincia di Parma ha preso atto del nuovo dimensionamento dell'istituto comprensivo con inserimento di statalizzazione o nuova istituzione di 5 sezioni ovviamente siamo in contatto con i nostri parlamentari affinché possano seguire la pratica presso il ministro l'onorevole Patrizia Maestri ha già depositato un'interpellanza alla commissione competente stiamo per approvare in giunta la bozza di bilancio di previsione per l'anno 2014 che sottoporremo al consiglio del 25 febbraio 2014 arriverà comunque la comunicazione nello stesso ovviamente abbiamo dato seguito a quanto affermato in modo forte e chiaro nell'assemblea pubblica intendiamo fornire il servizio ai salesi quindi abbiamo previsto il costo complessivo del servizio prevedendo tagli su altri capitoli che verrebbero poi ripristinati in caso di risposta positiva del ministero predisporremo in tempi utili la gara per la mensa scolastica che sarà comunque a carico del comune e indiremo una gara per la gestione della scuola vincolando l'assegnazione vera e propria alla risposta ministeriale nel frattempo dovrebbe arrivare la valutazione dell'immobile di proprietà della congregazione per procedere nella disponibilità dell'immobile stesso per quanto riguarda il trasporto continueremo ad offrire servizio come già stiamo effettuando per il personale abbiamo dato la disponibilità ai sindacati per un incontro specifico sto aspettando la loro proposta in merito alla data alleggo alla presente coppia di una lettera inviatami da Suor Flora De Toni in cui la stessa ha ritenuto opportuno chiarire ancora una volta il suo pensiero preciso inoltre che le iscrizioni verranno accolte dall'istituto comprensivo dal 3 al 28 febbraio presso la sede dell'istituto comprensivo di Felino il modulo per le iscrizioni stesse può essere scaricato dal sito del comune di Sala Baganza o ritirato presso l'ufficio scuola e colgo l'occasione per informarvi di una notizia che è giunta dopo che era già stato fatto tutta la risposta il 20 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto numero 4 del 17 gennaio 2014 del vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna riguardante la riorganizzazione della rete scolastica delle scuole statali della regione per l'anno scolastico 2014 2015 in cui all'allegato A è inserita la richiesta di statalizzazione nostra continueremo a fornire informazioni appena noi stessi ne avremo di certe sempre avendo cura di non creare confusione ma chiarezza grazie c'è anche la lettera di Suor Flora è allegata che se volete ve la leggo gentilissima dottoressa Merusi non sono dottoressa ma mi rivolgo a lei al suo consiglio per ripercorrere insieme il cammino fatto fino ad oggi giungendo alla decisione sofferta ma benefica per la popolazione di Sala Baganza la nostra congregazione ha riflettuto sulle responsabilità educative che da tempo portiamo avanti Sala Baganza ha avuto una presenza delle figlie della croce nel campo scolastico da più di un secolo dopo il discernimento e dopo aver valutato le nostre forze abbiamo verificato di non essere più in grado di portare avanti nel futuro la gestione della scuola abbiamo iniziato informando le realtà ecclesiali e la FISM vista l'esistenza in Sala Baganza di una scuola dell'infanzia e considerando i buoni rapporti e la fattiva collaborazione più che ventennale nella gestione della scuola stessa siamo giunti a pensare che il comune come ente pubblico è la realtà più idonea a garantire la continuità e la stabilità a questo servizio educativo per le famiglie di Sala Baganza e per questo a voi ci siamo rivolte al presente non abbiamo altro desiderio che lo spirito delle figlie della croce che ha animato per tanti anni i piccoli e le loro famiglie possa continuare anche senza la nostra partecipazione vorremmo fosse preso a cuore leggi permettendo la condizione lavorativa del nostro personale gradisca l'espressione della mia stima per essere stata vicina a noi in tutto questo percorso di riflessione e di decisione questa è la risposta di tutto il resto abbiamo parlato anche in assemblea so che eravate presenti quindi la vuoi? sì bene Giuseppe no ti chiedevo se volevi dire qualcosa giusto perché giustamente devo dire se sono soddisfatto o meno certo sono soddisfatto della risposta che ho ricevuto ovviamente l'unica cosa che mi viene da dire è che la data elencata inizia dal 30 ottobre 2013 quasi a far cadere come una cosa improvvisa quando invece già si sapeva da tempo che c'era questo quindi chiediamo ancora attenzione per il futuro superfluo ovviamente perché sicuramente la state prestando ma l'unica cosa che mi sembra sia passata se non altro come messaggio ai cittadini anche se magari non è così è quella di quasi di aver dato poca importanza anche al personale docente allora è un messaggio probabilmente che è stato recepito in modo errato ma che io invece rinnovo per cercare invece di continuare a dare importanza non solo giustamente e come priorità ai bambini e alle famiglie ma anche ai lavoratori grazie noi sappiamo che la priorità è il servizio ovviamente con l'attenzione al personale perché chi ha problemi di lavoro chiaramente è sempre sotto la nostra attenzione a volte però non è possibile salvare capre caboli vi ringrazio e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti